Ridurre i conflitti armati nel mondo formando i futuri leader globali di pace. Questa l'ambiziosa proposta di Rondine, cittadella della pace, tornata alle Nazioni Unite ad un anno di distanza dal lancio della campagna Leaders for Peace, con la quale si chiedeva ad ogni governo di dirottare una cifra simbolica dalla difesa a favore di borse di studio per futuri leader di pace. Assolutamente, è davvero un piacere accogliere nuovamente Rondine ad un anno di distanza dal lancio dell'appello Leaders for Peace. In un anno sono successe tante cose, oggi cercheremo di raccontarle ed è un grande piacere organizzare questo evento anche in partnership con altri due paesi importanti, la Giordania e l'Armenia, che hanno contribuito anche con giovani armeni e giordani ai corsi che Rondine organizza e a diffondere quello che è il messaggio di Rondine, che è un messaggio importantissimo. Adesso Rondine a New York ha lanciato una nuova sfida alle Nazioni Unite, proponendo agli stati che vorranno sostenerla di collaborare alla costruzione di quello che sarà poi il risultato concreto della campagna, la Global Leaders School. Vediamo che il tema della leadership globale è nell'agenda al primo posto, altrimenti rischiamo veramente scenari cupi. Quindi essere qua dopo un anno a raccontare insieme che cosa è successo in questo impegno che trova via via tanti alleati, tanti amici è un fatto davvero rilevante. Non siamo soli, la rappresentanza italiana qui alle Nazioni Unite ci mette non solo professionalità ma passione e cuore. Direi che abbiamo un po' il sostegno di tutti e speriamo di affacciarci nel secondo anno con grande credibilità.